Un'esercitazione congiunta a Stati Uniti e Giordania che ha già scatenato le polemiche. La presenza di forza militare ai confini con la Siria è stata bollata come una pericolosa danza con il fuoco da parte della Russia. Regno Unito, Arabi Sauditi, Italia sono solo alcuni dei paesi che prendono parte all'esercitazione che vede il dispiegamento di Patriot e l'impiego di F-16. Confermo che l'opposizione siriana non ha partecipato e non parteciperà a questa esercitazione, ha detto il maggiore a Uniel The One delle forze armate giordane. Sul fatto di mantenere delle forze militari in loco dopo l'esercitazione abbiamo negoziato e nessun esercito resterà finita l'esercitazione a meno che non ci sia una specifica richiesta da parte del governo della Giordania per mantenere Patriot ed F-16. All'operazione, denominata Eager Lion, prendono parte più di 8.000 militari concentrati a meno di 120 km dal confine con la Siria. Ieri intanto per le strade di Kusaira vicino al confine con Libano si sono viste escire di giubilo per la riconquista della città da parte dell'esercito fedele a Bashar al-Assad con l'appoggio dei militanti di Hezbollah.